Allora, io vi introduco questo personaggio ricordando di lui un rifugiato, un rifugiato politico, perché nel suo male in guerra ha avuto dei problemi ed è arrivato in Italia e per lui, per presentarlo, voglio leggere uno dei 30 articoli di cui si compone la Costituzione dei diritti umani, la Convenzione del 1948 dell'ONU sui diritti umani, 30 articoli. L'articolo 14 dice, riguarda il diritto d'asilo, se temiamo di venire maltrattati nel nostro Paese, abbiamo il diritto di andare in un altro Paese per essere al sicuro. Ecco, questo è l'articolo che interpella Sumaria. Un'altra cosa che voglio segnalare è che io ho tolto in un libro, Sogni di uomo, il suo primo libro, e il suo sogno, ho letto che è questo, il mio sogno è che ognuno possa vivere in sicurezza, abbia il diritto alla casa, all'istruzione, non muoglia di fame o si è costretto a dormire per strada, come accade in Africa, soprattutto ai bambini, bambini che sono il futuro di questo mondo e che invece di essere sfruttati nelle maniere andrì dovrebbero andare a scuola. Io do la parola al nostro amico. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie per essere benvenuti. e non so quanto tempo, dieci instazzi, ma per partire, soprattutto parlando dei diritti umani in Africa, spesso lo dico, ma la responsabilità è talmente grande che quando si riguarda soprattutto soprattutto quando si tratta dell'elezione in Africa, ci troviamo spesso con dei presidenti che non sono stati votati e nel momento in cui questi presidenti vengono eletti, le elezioni sono organizzate, le elezioni internazionali, sotto il naso dei supervisori dell'ONU o dell'Unione Europea, le elezioni sono falsificate e ci troviamo sempre con dei presidenti che non sono eletti e questi presidenti sono riconosciuti a livello internazionale. Questo è un grande problema in Africa, è un diritto che viene negato agli africani spesso, soprattutto agli umani, da 5 a 3 anni ci troviamo sempre con dei presidenti che non abbiamo avuto, che non vogliamo. E la seconda cosa che voglio accennare, soprattutto agli umani, oggi ci sono miliardi e migliaia di bambini che dovrebbero andare a scuola, si trovano con le armi. Credo che le organizzazioni internazionali pensano che sia un istituto internazionale, unicef e altre organizzazioni al nord del mare, non si tratta solo del mare quando va in Congo. Loro estragono il Corbat che oggi noi tutti in questo mondo sfruttiamo che si tratta che sia il computer o il computer che usiamo e hanno delle cose che proviene dal Congo che è il Corbat e lì ci sono dei bambini armati a difendere il territorio dove è strano il Corbat e questi bambini non difendono i interessi dell'interno nazionale che non hanno nessun diritto e non hanno la possibilità di andare a scuola, ma sono armati a fare la guerra con chi? Con delle persone del posto, con i loro parenti, con i loro fratelli e pure con gli agestamenti strutturali che portano in Africa, che ci costringono a tagliare le spese sulla sanità, sulle istituzioni, addirittura arrivano a privatizzare le scuole, fino alle scuole elementari e quindi chi non ha la possibilità di pagarsi non andrà a scuola. Questo è un grande problema che viene delle decisioni che vengono prese a livello europeo, soprattutto dall'Unione Europea che parte dal 2009 con l'accordo del penile che fanno finta di aiutare questi paesi ma in realtà ci siamo rendendo conto alla fine che dopo 5-6 anni che avremo milioni di bambini che non avranno la possibilità di andare a scuola dovuto a questo problema e milioni di persone che non avranno la possibilità di curarsi, perché i nostri governanti non si curano quando hanno un piccolo problema prendono l'ail e partono verso l'Europa e l'America per curarsi e chi non ha la possibilità di rischiare di grigli. Quindi non credo che sia una cosa normale che qualcuno muoio per non avere la possibilità di pagarsi 100 dollari o 50 euro, non credo che sia una cosa normale, sono delle cose che soprattutto ho provocato l'immigrazione quando chiamano delle persone immigrati economici ma non dicono le cause dell'immigrazione o di questa immigrazione. Sicuramente io non nego il fatto ma dobbiamo avere anche l'oculaggio di denunciare il problema che fa che queste persone si arrivano via, perché hanno creato delle situazioni che spingono da tante persone ad andare e secondo me pure non si può chiamare una persona perché ha dei problemi che non mi ci chiedono. Nel mio pensiero personalmente io penso che ciascuno di noi, o comunque nel mondo, ha il diritto di andare dove vuole, dove ha la possibilità di stare tranquillo, di vivere una vita a te, con qualsiasi persona della vita. E per finire e chiudere il discorso lo dico, oggi nessuno non si fa la domanda in questi paesi dove ci sono sempre le guerre che non fabbricano le armi. Come si può fare? E questa è la domanda che dobbiamo cerci. Sicuramente abbiamo la risposta. Oggi va in Africa ci sono circa 25 paesi dove non c'è stanchità. E in questi paesi non si pubblicano le armi. Penso che basta un'altra decisione per fermare le due a queste paesi, ma non farebbe piacere a alcune persone. Quindi li fanno comodo di fare finta di combattere queste situazioni provocando, danneggiando vite umane. E quando riguarda lo sfruttamento in Africa, persone che vengono sfruttate, che siano donne, bambini, uomini, che sono costretti a lavorare nelle miniere e dove non hanno nessuna garanzia di protezione, che sono pericolate. E sono dei problemi. Se continuiamo a parlare, non finiremo oggi. Il paese di carceri in Africa, che troverai delle condizioni veramente disumane, credo che sia la croce rossa all'Università Internazionale. Chiamo la possibilità di entrare in due carceri in Africa. sanno come sono le condizioni delle persone in questo paese, soprattutto in carceri, dove ti trovi in una cella di, non so, di venti metri quadrati in cinque o sei persone e dove la giustizia è che è comandata dal potere e che il governo ha in tutto il diritto, soprattutto in mani, il presidente della Corte Costituzionale viene eletto dal presidente della Repubblica. e quindi c'è qualcosa che non parla. E il presidente della Repubblica sicuramente, come prevede la Costituzione, è il capospegno della magistratura dell'esercizio e quindi ha il potere di che sia il presidente della Sambola Nazionale, che è il Parlamento, con il diritto dell'esercizio, con il diritto dell'esercizio, con il diritto dell'esercizio e quindi questa è una cosa che fa riflettere. Non si può parlare di giustizia nel momento in cui il presidente della Repubblica ha il potere di nominare i magistrati e il presidente della Corte Costituzionale, che pure ha il potere di annunciare o di promulgare quando vengono fatte le elezioni e dopo le elezioni, che è il presidente della Corte Costituzionale, che dici, che firma, chi ha capito le elezioni e chi sarà il presidente della Repubblica. E io che metto una persona. E come fa questa persona a dire che io non lo dico? E la magistratura non è assolutamente importante in questi paesi e ci sono tanti paesi in l'Africa in queste condizioni, che sia il Combo, il Camero, il Toro, il Mali, nella Repubblica Centroafricana, qui nella Repubblica Centroafricana, qui nella Repubblica Centroafricana, in Gabon, dove c'è quasi una menarchia e diversi tempi in Africa sono diverse situazioni. E ho quasi finito il mio tempo e vi ringrazio. è stato un piacere di poter condividere questo tempo con voi. Grazie.